25 chilometri per la Crono-Retrone, 5, 8, 13, 18 chilometri per la Corri-Retrone. Vicenza si prepara a vivere una domenica mattina in compagnia di migliaia di runner, più o meno veloci, più o meno agonisti. Per questi c'è appunto la gara competitiva, la Crono, che oltre ai 25 chilometri presenta un dislivello positivo di 725 metri. Il percorso passa anche per la Rotonda, il santuario di Monteberico ed è alla portata di tutti. La Corri-Retrone, che è la 14esima edizione, è una manifestazione ludico-motoria, aperta a tutti, a qualsiasi livello di preparazione. Quindi da chi cammina, a chi vuole portare il cane a passeggiare, a chi invece vuole anche correrla in modo impegnativo. La Crono-Retrone è un percorso separato, è diverso, anche se non totalmente, invece prevede una preparazione maggiore. L'altra manifestazione podistica sarà quella più festosa, quindi aperta a tutti su quattro distanze. Evento di richiamo per la città e la provincia. Una manifestazione che dà la possibilità anche a tante famiglie, non solo vicentine, ma anche dalla provincia di Vicenza. Speriamo anche da fuori di visitare le bellezze della nostra città, non solo in centro storico, ma anche in periferia. Parco-Retrone ne è un esempio da questo punto di vista e quindi invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa bellissima manifestazione che una camminata non fa male a nessuno. Il ritrovo sarà alla Scuola Loschi, in via Carta, ai ferrovieri, ingresso Parco-Retrone. Termine delle iscrizioni per gli agonisti il 21 marzo, per tutti gli altri la mattina della gara, domenica 24.